all'ombra della torre antica è una rassegna la prima rassegna che speriamo abbia anche un lungo futuro e che unisce il pubblico e il privato infatti si terrà in luogo magico per questo prende il nome all'ombra della torre antica che è il torrione al torrione il negozio e bio di laria sartori in via vaghi questa sarà la sede questo bellissimo giardino ospiterà gli autori gli eventi che abbiamo organizzato una rassegna ricca che ha la particolarità però di svolgersi tra le due sponde perché abbiamo sposato in contemporanea padus mirabilis per cui domenica accadrà questa cosa straordinaria i bambini che parteciperanno all'evento organizzato proprio lì in via vaghi poi saliranno sull'anguilla la barca degli amici del po e verranno trasportati il tutto gratuitamente sull'altra sponda per partecipare ad un altro evento organizzato nell'ambito appunto di questa magnifica manifestazione che pado smirabilis dal museo del bisù e in quel contesto tra l'altro giuseppe boles nel conservatorio terrà una delle sue incredibili letture spettacolo per parlare di casal maggiore della sua storia segreta e della bassa per cui il la rassegna è nuova per come è stata concepita appunto perché valorizza il po come elemento di unione e non di di separazione e allo stesso tempo valorizza un luogo storico che è l'antico torione non ancora aperto al pubblico con tutta probabilità entro la fine dell'anno verrà inaugurata verrà inaugurato questo splendido luogo un luogo magico un tempo sede delle delle carceri e in futuro speriamo sede anche di questa rassegna gli autori che ospitiamo sono di carattere sono di importanza nazionale perché ad esempio ospiteremo rosa ventrella che presenterà in anteprima il libro da cui è stato tratto è stata tratta una serie televisiva e silvia trussi anch'essa volto noto della televisione giornalista del del fatto quotidiano e come dicevo la rassegna coinvolge anche i bambini e le famiglie e ospiterà eventi comunque anche collaterali rispetto appunto al libro e alla lettura che sono ad esempio una mattina domenica mattina le dici una seduta di yoga laboratori e poi un evento che si chiama silent book branch che prevede fra le altre cose anche un branch quindi un momento di ristoro una sorta di pranzo colazione sullo stile americano ma la cosa che mi preme sottolineare è proprio questa che viene detta in questo banner cioè l'idea che la biblioteca possa invadere territori che non sono suoi e all'interno delle sue mura ma uscire proprio dagli spazi consueti e questo con lo scopo di come dice appunto il banner di creare occasioni di incontro di scambio e per includere il più possibile nuovi lettori e nuovi nuovi supporter che potrebbero diventare appunto in futuro i nostri fedeli lettori questo è un po il senso di tutta l'iniziativa oscia attenzione a a a a a a Grazie a tutti